Sì, io l'ho incontrato ieri mattina il Presidente dell'autorità portuale, che già aveva incontrato il mio capo di gabinetto. L'ho trovato un incontro molto utile, molto proficuo, di grande correttezza istituzionale. Ho visto il Presidente molto motivato, a lui ho garantito non solo il massimo di cooperazione istituzionale, ma anche di più. Perché noi abbiamo tanta voglia, tante idee, tanta passione e tanta energia sul porto, che per colpa dei commissariamenti del passato non ha accelerato come ha accelerato la città nel cambiamento. Oggi sono tutte le condizioni per lavorare insieme, in uno spirito costruttivo di rilancio del porto. Il primo incontro è stato, a mio avviso, estremamente positivo. Ci siamo dati già un calendario di lavoro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con obiettivi a breve, a medio e lungo termine, nell'ambito della cooperazione istituzionale, ma anche per dare immediatamente dei segnali di rilancio del porto.